Ciao, sono Nelsi e sono una Careliver. Immagina un bambino prelevato dalla sua famiglia e si ritrova a crescere in un'altra famiglia. Immagina un ragazzo che scappa dalla sua famiglia e decide di crescere in una comunità. Questi sono i Careliver. Per Agevolando e per il suo progetto Carelivers Network ricevere questo riconoscimento significa in sostanza avere un incoraggiamento molto importante da parte del Parlamento europeo. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a sostenere i Careliver che sono ragazzi che sono usciti da percorsi di comunità e casa famiglia nel loro percorso verso l'autonomia. Un percorso che non è sempre facile anzi perché richiede ai ragazzi di diventare adulti sostanzialmente a 18 anni un giorno e attraverso il Carelivers Network noi ragazzi Careliver cerchiamo di aiutare altri ragazzi che stanno vivendo questa transizione sia a livello nazionale quindi nel contesto italiano ma con un'ambizione anche rispetto al contesto europeo. C'è bisogno di un aiuto in più e quello che noi cerchiamo di fare da Careliver che ci sono già passati è sostenere altri ragazzi. Fare in modo che nessun Careliver né italiano né europeo si senta più solo durante questo percorso e appunto ci sentiamo molto incoraggiati da questo riconoscimento che è un invito a fare di più e a far meglio. Come Agevolando e Careliver's Network ci teniamo molto alla partecipazione attiva e per questo vi invitiamo a partecipare alla conferenza sul futuro dell'Europa. Esiste una piattaforma sulla quale potete portare le vostre idee in modo tale da migliorare appunto l'Europa.